Semi di sesamo. Proprietà, benefici e controindicazioni. Benvenuti a tutti! Oggi parleremo di un alimento molto speciale, i semi di sesamo. Questi piccoli semi sono ricchi di benefici per la nostra salute. I semi di sesamo sono ricchi di calcio, un minerale essenziale per la salute delle nostre ossa. Ma non solo, contengono anche magnesio, che aiuta a mantenere il nostro sistema nervoso in equilibrio. Inoltre, i semi di sesamo sono una fonte di fibre. Le fibre aiutano a regolare il nostro sistema digestivo, prevenendo problemi come la stitichezza. Un'ottima ragione per includere i semi di sesamo nella nostra dieta quotidiana. Un altro vantaggio dei semi di sesamo è la loro ricchezza in antiossidanti. Gli antiossidanti combattono i radicali liberi, che sono responsabili dell'invecchiamento delle cellule. In questo modo, i semi di sesamo aiutano a mantenere la nostra pelle giovane e luminosa. Non dimentichiamo che i semi di sesamo sono anche ricchi di acidi grassi omega 3. Questi acidi grassi sono essenziali per la salute del nostro cuore e del nostro cervello. Inoltre, aiutano a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Per quanto riguarda l'uso dei semi di sesamo in cucina, sono molto versatili. Possono essere utilizzati per arricchire insalate, zuppe, cereali o persino dolci. Inoltre, l'olio di sesamo è un ottimo condimento per insalate e verdure. Ma attenzione, i semi di sesamo possono avere anche delle controindicazioni. Per esempio, se soffrite di allergie alimentari, potreste essere allergici ai semi di sesamo. Inoltre, se consumati in eccesso, possono causare problemi digestivi. Inoltre, se siete in trattamento con farmaci anticoagulanti, dovreste evitare di consumare semi di sesamo. Infatti, questi semi possono aumentare l'effetto di questi farmaci, aumentando il rischio di sanguinamento. In questi casi, sarebbe utile confrontarsi con il proprio medico prima di consumare semi di sesamo. In conclusione, i semi di sesamo sono un alimento molto benefico per la nostra salute. Ricchi di nutrienti come calcio, magnesio, fibre, antiossidanti e acidi grassi omega-3, possono aiutarci a mantenere il nostro corpo in salute. Tuttavia, come per ogni alimento, è importante consumarli con moderazione e fare attenzione alle possibili controindicazioni. Se avete dubbi o domande, non esitate a consultare un professionista della salute. Grazie per aver seguito questo video informativo sui semi di sesamo. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili. Ricordate, una dieta equilibrata e varia è la chiave per una buona salute. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Teasily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Arrivederci e alla prossima! Ricorda di iscriverti al nostro canale per non perdere altri video informativi come questo. Ricorda di iscriverti al nostro canale per non perdere altri video.